Saranno completati nei prossimi giorni i lavori della strada Scarubbi sul monte Pasubio, territorio Posina. Gli Scarubbi, noti soprattutto per essere la via di ritorno del percorso delle 52 gallerie, dove ogni anno transitano oltre 50.000 escursionisti, sono stati messi in sicurezza grazie ai fondi dell'alluvione Vaia per il max importo di 250.000 euro. Il tracciato degli Scarubbi parte dal rifugio pub a quota 1928 per arrivare a Valle, in località Bocchicca Miglia. Gli interventi si sono concentrati nelle sistemazioni delle pareti a monte della strada, sia con lavori di disgaggio che apposizione di reti contenitive e altri interventi strutturali. Credo che tutto il nostro territorio sia un patrimonio ambientale e storico di straordinaria bellezza, spiega il sindaco di Posina Andrea Cecchellero e auguro che presto anche la parte degli Scarubbi che rientra nell'area Trentina possa ricevere la stessa attenzione.